Abbiamo sviluppato una piattaforma che di base è lo stato dell'arte della tecnologia finanziaria europea e semplicemente la portiamo in quei paesi con un modello che lo rende accessibile anche operatori che non hanno grossi budget per investire. E questo ovviamente è molto interessante perché ci permette di entrare in contatto con realtà che fanno davvero tanti tipi di attività diversi ma soprattutto diventiamo quell'humus, se vogliamo fare un parallelo, che poi fa crescere l'ambiente, la foresta intorno del fintech e dei servizi finanziari. Salve a tutti, siete all'ascolto di Insider dentro la tecnologia, un podcast di Digital People e io sono il vostro host Davide Fasoli. Oggi parleremo di come la tecnologia bancaria sta rivoluzionando i servizi finanziari, favorendo in particolare i paesi emergenti grazie al modello del Banking as a Service e alla Blockchain. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music oppure direttamente sul nostro sito. Nell'ultima settimana si è iniziato a parlare sempre più frequentemente delle problematiche legate alla produzione di energia in Germania che ha determinato un crollo del costo della corrente elettrica portando i prezzi in negativo. Il motivo di questa crisi è dovuto all'enorme capacità di fotovoltaico installata negli ultimi anni che ha portato ad avere un'offerta molto più elevata rispetto alla domanda. In termini economici, infatti, quando si verifica una situazione analoga, il prezzo del bene scende di conseguenza. Per di più, se aggiungiamo il fatto che in estate la domanda di energia elettrica è minore rispetto ai mesi invernali e che la massima produzione di fotovoltaico viene raggiunta in questo periodo, la situazione si fa ancora più grave. Per far fronte a questa situazione, il governo starebbe pensando di reindirizzare tutti gli incentivi stanziati per l'installazione del fotovoltaico verso gli accumuli, in modo tale da poter utilizzare l'energia prodotta di giorno anche di notte. L'inquinamento acustico è un problema ormai sempre più frequente, soprattutto perché abita nelle grandi città o in palazzi molto affollati. Per questo sono in corso diverse ricerche per trovare nuovi materiali fonoassorbenti o sistemi per cancellare il rumore. Una di queste è stata recentemente pubblicata da un gruppo formato da ricercatori dell'MIT e di altri paesi, in cui viene presentato un tessuto che, nonostante sia spesso solo 0,13 mm, riesce ad abbattere fino al 75% del rumore che gli passa attraverso. Il tessuto in questione in realtà è un classico tessuto di cotone o seta, a cui però è stata cucita della fibra realizzata con del materiale piezoelettrico. A questo punto i ricercatori hanno messo a punto due metodi. Il primo funziona come la cancellazione del rumore, dove un microfono capta le onde sonore indesiderate, le quali vengono riprodotte, tra virgolette, al contrario, dalla fibra piezoelettrica. In questo modo le onde sonore si annullano e il rumore viene ridotto drasticamente. Il secondo metodo invece misura le vibrazioni del tessuto, che anche in questo caso vengono elaborate per emettere una vibrazione della fibra in grado di annullare quelle presenti, rendendo il materiale, per così dire, impermeabile al suono. Negli ultimi anni la tecnologia bancaria ha rivoluzionato il modo in cui gestiamo le nostre finanze, offrendo soluzioni innovative e accessibili che stanno democratizzando l'accesso ai servizi finanziari in tutto il mondo. Non per ultimi i paesi in via di sviluppo, dove l'adozione di strumenti digitali sta trasformando radicalmente l'accesso al credito, ai pagamenti digitali e molto altro, contribuendo a combattere l'esclusione finanziaria e a promuovere lo sviluppo economico in regioni dove l'accesso tradizionale ai servizi bancari è limitato. Per parlare di tutto ciò è con noi Steven Muccioli, fondatore e CEO di BKN 301. Benvenuto Steven. Grazie, buongiorno. Partiamo quindi da BKN 301, raccontaci anche l'origine di questo nome e da dove è nata l'esigenza di creare una fintech di questo tipo. Allora, BKN 301, parto dal nome, nasce dalla crisi tra blockchain e bank, quindi BKN e 301 è l'anno di fondazione della Repubblica di San Marino, dove la società è stata fondata, dove ha iniziato il suo percorso prima di spostarsi a Londra a giugno dell'anno scorso. E quindi questo è il significato del nome. L'idea nasce, diciamo, dalla volontà dopo un paio di start-up di successo che ho avuto la fortuna di fondare e vendere. Nel marzo 2021 decido di, diciamo, iniziare questa avventura e coinvolgo Federico Zambelli Osmer e Luca Bertotti, che sono i miei due co-founder, nel fondare BKN 301, appunto, con l'idea, con la visione, se vogliamo, di creare il più importante operatore di banking as a service che unisca Europa, Medio Oriente e Nord Africa, quindi paesi emergenti, o ad alta crescita, e l'Europa. Questo, diciamo, con la volontà di seguire un percorso demografico ben preciso, un'idea demografica ben precisa, quindi, diciamo, seguire i flussi umani, tecnicamente, di innovazione e di forza lavoro, e quindi, diciamo, puoi creare l'inclusività finanziaria e sviluppare quello che è poi, diciamo, il fintech in queste aree, diciamo, emergenti, per metterli in comunicazione con l'Europa e con i paesi occidentali. Ok, e a proposito di questo aspetto, ci racconti un po', ci dai un po' il quadro generale di quella che è la situazione globale, ma soprattutto in questi paesi emergenti, come dicevo nell'introduzione, perché c'è questa necessità di creare una realtà come la vostra, e per rispondere a quale domanda? Allora, la necessità è veramente alta. Il punto è questo, i paesi, diciamo, d'alta crescita del Nord Africa, del Medio Oriente e anche dell'Europa orientale stanno vivendo un momento storico molto particolare, nel quale hanno uno sviluppo molto alto in termini di pil pro capite e anche in termini di popolazione. Quindi, se pensiamo ad esempio all'Egitto, dove è un paese che cresce a ritmi molto importanti, che ad oggi ha più di 110 milioni di abitanti, con appunto una popolazione con un'età media intorno ai 24 anni, sono caratteristiche che in un paese del Nord Africa come l'Egitto, per noi europei sono difficili da intuire, da capire, perché visivamente l'impatto, culturalmente l'impatto è molto forte passare dall'Europa a un paese del Nord Africa. Proprio perché appunto c'è una popolazione giovane e quando dico una popolazione giovane non intendo semplicemente perché ci sono dei ragazzi, ma perché proprio sono tutti ragazzi. Cioè non trovi tecnicamente per strada, ma banalmente anche nei ruoli amministrativi o nelle aziende, non trovi persone diciamo oltre i 50 anni, molto molto raro. Mentre in Italia e in Europa è esattamente l'opposto, cioè non trovi giovani, non trovi visivamente, non ci sono in giro e non ci sono nelle aziende. Quindi questo crea una prima differenza enorme demografica fra questi paesi e diciamo l'Europa. Vale la stessa cosa per l'Europa orientale, vale la stessa cosa anche per i paesi del Medio Oriente, in particolare i paesi del Golfo dove c'è un'immigrazione molto forte, quindi anche un'età media molto molto bassa e anche un multiculturalismo molto diffuso, quindi una miscellina di diverse culture, di diversi stili di vita. Questo crea ovviamente una serie di esigenze, tecnicamente esigenze che partono dal mondo finanziario che di base è il motore dell'economia, che poi diciamo hanno bisogno di avere delle risposte, cioè hanno bisogno di avere qualcuno che risponde alla domanda di servizi che questi paesi hanno. Facciamo un esempio, l'Egitto è un paese in cui noi operiamo, la terza industria dell'Egitto è l'industria degli esseri umani, il capitale umano, nel senso che sono gli immigrati egiziani, gli emigrati egiziani che come expat vengono in Europa o vanno nel Golfo e lavorano all'estero e poi mandano i soldi a casa. Quindi c'è un volume di pagamenti, di rimesse di pagamento in termini tecnico di cross border dai paesi stranieri fino all'Egitto e questa è un'industria, è una vera e propria industria, cioè Cuba ha più di 30 miliardi di dollari all'anno in Egitto, quindi è una vera e propria industria. Però ad esempio è un'industria che è servita ad oggi soltanto da operatori tradizionali. Le finte che si stanno approcciando solo adesso a questo tipo di servizi e ancora i margini per migliorare l'efficienza, i tempi e i costi è molto alta. Quindi questo è solo un esempio per farvi capire come in questi paesi ci sono nuove esigenze sempre più forti e poi servono fintech che sviluppano prodotti per rispondere a queste esigenze. Quindi BKPN301 nasce non con la volontà di diventare l'operatore che va in questi paesi e esporta direttamente un brand e si sviluppa su questi mercati, ma noi vogliamo semplicemente essere diventare l'infrastruttura che si sviluppa in questi mercati. Cioè sopra la nostra tecnologia vogliamo che le fintech locali fatte da giovani locali e da imprenditori locali si sviluppano sulle nostre infrastrutture. Quindi noi non facciamo modo che prendere tecnologia che viene utilizzata e diciamo prendiamo abbiamo sviluppato una piattaforma che di base è lo stato dell'arte della tecnologia finanziaria europea e semplicemente la portiamo in quei paesi con un modello che lo rende accessibile anche operatori che non hanno grossi budget per investire. Quindi con una forte accessibilità. E questo ovviamente è diciamo molto interessante perché ci permette di entrare in contatto con realtà che fanno davvero tanti tipi di attività diversi e ma soprattutto diventiamo quell'humus se vogliamo fare un parallelo che poi fa crescere la diciamo l'ambiente, la foresta intorno del fintech e dei servizi finanziari. Ok e quindi appunto questo è il concetto di banking as a service. A proposito di questo ci spieghi quali sono ad esempio dei servizi finanziari che offrite a realtà di questo tipo? Di base andiamo, noi abbiamo sviluppato una piattaforma che è un orchestratore di servizi. Quindi noi diciamo mescoliamo in un unico calderone, in un orchestratore, facciamo suonare insieme, facciamo un esempio più musicale, facciamo suonare insieme diversi strumenti che sono nativamente pensati per diversi mercati. Quindi facciamo un esempio, ad esempio, tutto il tema dei servizi di pagamento. Quindi non so, possono essere i digital wallet o le carte di pagamento. noi integriamo servizi che funzionano in Egitto, per dire un esempio concreto, ma anche nel Golfo, ma anche in Europa orientale, quindi nei paesi del Caucaso ad esempio, o in Europa. Quindi abbiamo, integriamo diversi servizi che normalmente non funzionano in tutti i paesi, ma li mettiamo insieme e quindi creiamo interoperabilità, quindi creiamo un'architettura che è in grado di lavorare in diversi paesi. Questo, per farla semplice, cosa porta? Qual è il risultato finale? Il risultato finale è che una banca digitale egiziana come Damen, che è un nostro cliente ad esempio, per citare un cliente che abbiamo, che serve 18 milioni di egiziani, che sembrano tanti, ma in realtà ricordo la popolazione egiziana è 110 milioni, Damen utilizza la nostra infrastruttura sia per fornire servizi ad esempio per pagare le bollette, le bollette non esistono in Egitto, per ricaricare le carte prepagate dell'acqua, perché è la definizione corretta di bollette in Egitto, oppure dell'elettricità, ma anche i servizi di telecomunicazione, ma anche inviare o ricevere denaro dall'Italia ad esempio, o dall'Europa. Oppure fare un account, quindi un conto digitale dove poter salvare denaro. E per creare questo, diciamo, questo è il risultato finale. Quello che noi facciamo dietro è mettere insieme tutto quello che serve e renderlo fruibile in modo semplice per questa fintech, Damen, unendo servizi europei, del golfo, egiziani, eccetera. Quindi facciamo suonare l'orchestra in modo che l'esultato finale sia semplice e va la stessa cosa per tutti i nostri clienti in tutti i paesi. Quindi con la stessa infrastruttura, Damen in Egitto può ricevere denaro dall'Europa sulla nostra piattaforma e, non so, Kipt in Georgia, che è un'altra banca digitale che serviamo, tramite invece QR code, quindi un sistema completamente diverso da una carta, può inviare e ricevere denaro anche verso l'Egitto potenzialmente, perché sono basati sulla nostra stessa infrastruttura. Quindi noi creiamo un'architettura che rende tutto omogeneo e unisce diversi paesi e diverse geografie, ad oggi tre continenti, e li rende interoperabili. Quindi questo è il nostro prodotto. Ok, quindi vi occupate anche della fase poi di scrittura, del codice, di unificare tutti questi sistemi, ed è difficile fare questo tipo di attività, integrare così tante realtà diverse. Assolutamente molto complicato, soprattutto per aspetti regolamentari. La nostra società è vigilata in due paesi e parzialmente vigilata negli altri due. Noi in Europa, diciamo, siamo a San Marino, che è recentemente entrata a far parte del panorama finanziario europeo, dello schema finanziario europeo, e siamo regolati dalla banca centrale di San Marino, siamo regolati anche dalla banca centrale georgiana per i paesi del Caucaso, siamo in partnership con due banche, una in Egitto e una in Qatar per il Golfo e il Nord Africa, e ovviamente c'è una complessità di compliance, c'è una complessità, diciamo, regolatoria, c'è una complessità tecnologica, c'è una complessità anche linguistica, perché parliamo di applicazioni in arabo, in Nord Africa o nel Golfo e in, diciamo, in georgiano, nel Caucaso e in inglese, in italiano e nelle varie lingue europee in Europa. C'è una complessità anche di valuta, perché ci sono valute diverse, c'è l'euro in Europa, ma poi ci sono, diciamo, tante valute diverse nei vari paesi, e quindi, diciamo, le logiche e l'infrastruttura è discretamente complessa, ed è il motivo per cui noi, diciamo, la sfida che stiamo affrontando è esattamente questa. Ok, e in tutto questo come si integra la tecnologia blockchain? Cioè, come si può utilizzare in modo, appunto, sensato in questo settore questa tecnologia? Allora, per noi, diciamo, noi nasciamo nativamente con l'idea di sfruttare, diciamo, le tecnologie più adatte a creare degli standard, ok? Perché, appunto, l'obiettivo è quello di creare un'architettura interoperabile in diversi continenti, quindi nel mondo finanziario è molto complicato. È chiaro che la blockchain è la madre di tutte le semplificazioni in questo ambito, nel senso che è una tecnologia che permette l'interoperabilità su diversi paesi, appunto perché, diciamo, per le sue caratteristiche supera tante barriere regolamentari, di valuta e anche tecniche che nel mondo finanziario sono, diciamo, alla base. Pensiamo semplicemente agli schemi di pagamento come Mastercard e Visa, che sono schemi americani che lavorano, diciamo, in tanti paesi, ma che per operare hanno bisogno di un'infrastruttura enorme e molto complessa. Mentre, appunto, che ne so, se pensiamo a... noi utilizziamo un forco del protocollo di Stellar, ad esempio, per gestire alcune delle nostre funzionalità, Stellar è una blockchain che permette di, diciamo, di scambiare token in modo molto semplice fra diversi nodi e questi nodi possono essere dappertutto, quindi questo semplifica enormemente l'architettura. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo integrato la tecnologia blockchain all'interno della nostra macchina per gestire alcune delle funzionalità che offriamo i nostri clienti. Quindi è un utilizzo interno, quasi, se vogliamo, per renderla più efficiente. Non lavoriamo nell'ambito cripto, quindi non è che offriamo sul mercato criptovalute o cose del genere, semplicemente utilizziamo la tecnologia per gestire le informazioni, lo scambio valutario anche all'interno della nostra stessa società, quindi all'interno del nostro gruppo. Secondo, ovviamente, sfruttiamo questa tecnologia per migliorare gli aspetti di cross border, perché ovviamente, dal mio punto di vista, uno degli elementi più disruptive di questa tecnologia è proprio il cross border, cioè la possibilità di inviare, ricevere un elemento di valore, che può essere un token o una stable coin, tra diversi nodi in diversi paesi, superando l'elemento di conversione valutaria. E quindi questo, ovviamente, è un elemento che chiaramente ancora è all'inizio del suo percorso, non è così facile, diciamo, utilizzarla in tutti i paesi, ma è uno degli aspetti che stiamo sviluppando di più. Quindi questo è, diciamo, come la utilizziamo ad oggi. All'interno della nostra piattaforma per gestione interna e abbiamo dei progetti, stiamo lavorando per iniziare, diciamo, quando sarà possibile, anche a livello legislativo, svilupparla nei nostri mercati sulla parte cross border. Sì, perché ad oggi forse il problema è anche quello che è un settore che è poco normato. Sì, è poco normato nel senso che è poco consentito l'utilizzo. In realtà, ahimè, in realtà è molto normato, però è normato per non essere utilizzato. Cioè, è molto vietato, se vogliamo. Ad esempio in Egitto è assolutamente vietato l'utilizzo in generale di token, criptovalute in generale da parte della popolazione, ma ad esempio non è vietato da parte delle banche. Quindi, diciamo, c'è un confine abbastanza, diciamo, sottile su quello che si può fare e quello che non si può fare. Diciamo che, dal mio punto di vista, servono più casi d'uso concreti di, diciamo, progetti che non sono per forza legati al pubblico, ma sono più B2B o a livello di, diciamo, tecnologico puro. Quel tipo di casi d'uso potrebbe in futuro, e sicuramente sarà così, creare poi una regolamentazione bancaria più morbida verso questo aspetto. Ad oggi, ovviamente, quando parli di blockchain, diciamo, il collegamento immediato che viene fatto non è legato alla tecnologia, ma è legato alla speculazione, e che sono cose che, ovviamente, non sono per forza collegate. Che forse è un po' questo il motivo per cui il legislatore non vede di buon occhio questa tecnologia, che invece, come ci hai detto, vi prometterebbe di semplificare il vostro lavoro estremamente. Sai, è vero, sia un tema di speculazione, sia un tema legato un po' all'impatto e il peso che hanno le valute, diciamo, leader nel mercato, quindi il dollaro e adesso, insomma, anche altre valute emergenti e l'euro, chiaramente, perché chiaramente quando io vado a introdurre una possibilità alternativa a una valuta forte o locale a una persona, è chiaro che perdo un elemento centrale della gestione del potere governativo di un paese economico, di una leva finanziaria, e quindi questo è un elemento molto delicato. Io credo che, diciamo, l'introduzione di valute governative e digitali cambierà enormemente questo paradigma, quindi l'euro digitale, diciamo, il dollaro digitale già esiste, insomma, questi elementi cambieranno l'utilizzo di questi strumenti, sicuramente. Ok, e per chiudere, a proposito di questi temi, qual è secondo te il futuro del settore finanziario proprio da questo punto di vista e quindi anche cosa ti auspichi che succederà in tema, ad esempio, di blockchain e della fornitura di servizi finanziari e come magari rivolverà anche il mercato finanziario, soprattutto in questi paesi emergenti? Io credo, sono fortemente convinto che la crescita che stiamo osservando in questi paesi è una crescita che ha una sola direzione e non potrà tornare indietro, anche per, come dicevamo all'inizio, per i motivi che hanno spinto alla creazione di BKP 301, cioè motivi demografici. Noi viviamo in paesi, in particolare l'Europa, molto più che gli Stati Uniti ad esempio, in particolare l'Europa è un'area dove la popolazione, i lavoratori sono sempre di meno, la popolazione giovane ormai si può dire che è ininfluente, è quasi inesistente rispetto al totale e quindi in futuro noi avremo esigenze importanti in termini di immigrazione per sopravvivere tecnicamente, per poter riuscire a far fronte, diciamo anche banalmente a pagare le pensioni. Di conseguenza questo è un tema, cioè l'Europa ovviamente si focalizzerà su servizi finanziari più legati, se vogliamo, a un pubblico maturo, a un pubblico che ha più esigenze di risparmio, investimento a lungo termine eccetera, meno esigenze nel breve, quindi ad esempio il mondo della microimpresa o cose del genere, perché appunto quando tu non hai una popolazione giovane la microimpresa è molto più rara perché ovviamente non hai imprenditori tecnicamente, non hai lavoratori, mentre al contrario nei paesi emergenti succederà l'opposto, quindi sta già avvenendo, avremo sacche di popolazioni importanti, numericamente importanti che hanno necessità di servizi ad esempio di microfinance, di pagamenti in generale, di apertura di conti correnti, di gestione di liquidità, legati allo sviluppo economico, quindi appunto un prestito, la possibilità di inviare e ricevere denaro in un altro paese in modo semplice e veloce, quindi io vedo questo come sviluppo principale in questi paesi, in controtendenza con l'Europa, la blockchain non è altro che dal mio punto di vista che un abilitatore di tutto questo, non credo che sia un elemento trainante, ma penso che sia un elemento che sarà utilizzato in modo naturale per creare soluzioni adatte alle esigenze della popolazione, che però ripeto, saranno diverse nei mercati emergenti rispetto al mercato europeo. Va bene, allora grazie Steven per averci fatto questo quadro generale del settore finanziario, in particolar modo dei servizi finanziari e come evolverà ecco questo settore. A presto. Grazie, grazie ragazzi. E così si conclude questa puntata di Insider dentro la tecnologia. Io ringrazio come sempre la redazione e in special modo Matteo Gallo e Luca Martinelli che ogni sabato mattina ci permettono di pubblicare un nuovo episodio. Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione chioccioladentrolatecnologia.it, seguiteci su Instagram a chioccioladentrolatecnologia dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti. Qualsiasi caso nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social. Se trovate interessante il podcast condividetelo che per noi è un ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità. Noi ci sentiamo la settimana prossima.